Sembro quasi professionale con questa sciarpetta Oggi siamo sul mio profilo in arena leggendaria Per andare a combattere in live assieme a voi Con un deck alquanto strano e alquanto rischioso da utilizzare Infatti ecco qui questo deck che dice chiaramente no alle truppe aeree Tant'è che non ce n'è manco ne una che le bersaglia Se non lo spiritello di ghiaccio Ma davvero serve quanto un peto di foca Ma prima di andare a combattere in live vi do finalmente un modo per essere salutati in un mio video Infatti basterà lasciare like se volete magari condividere E scrivere sotto nei commenti hashtag unicorno Per tentare di essere salutati in un mio video Infatti ragazzi attenzione Parte fondamentale la scelta sarà di 2-3 nomi per ogni video In maniera altamente randomica C'è casuale c'è io chiudo gli occhi E scelgo un tizio che ha scritto hashtag unicorno e lo saluto Detto ciò andiamoci a spacchettare un attimino questi bauli Per quanto possono essere schifosi Questi cavo d'argento che valgono meno del polpettone di zia Carmela Perché ovviamente così facendo ci liberiamo un attimino i posti Quindi se dovessimo nel caso vincere una battaglia Ovviamente otterremmo un bel baule Vado anche col boli della corona perché ovviamente non fa mai male spacchettarcelo qui in live 4 gemme, 7 barbari, 27 spiriti di ghiaccio che potete addirittura portarli all'11 Solo che sono un poveraccio e non c'ho loro E niente, niente La merda oggi, la merda Anche un bel omaggio così per fare un attimo la scena Ok, ok, una beata minchia E adesso finalmente andiamo a combattere con questo deck Ok, iniziamo subito malissimo Ma di un male Ma di un male Che porca miseria Spirito di ghiaccio qui che va a bloccare la situation Va bene Vado anche con No, 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 no Male, 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 male Tanto male Tanto male a quella torre Aia, aia, aia Porca di una miseria Ma che è sta storia, raga Raga, ma che è sta storia E magamago E magamago Ok, ok Vai mini pecca Vai mini pecca Credo in te Dai quelle randellate mini pecca Porca miseria Ma tutte a noi dovranno capitare Ok, ok Spirito di ghiaccio contro spirito di ghiaccio Ma perché è andato contro quello Vai mini pecca Vai mini pecca Randella con la torre Randella con la torre Grandissimo il nostro mini pecca Ok, ok E E Houston abbiamo un problemino Ok Vai con il golem di ghiaccio Che va a contare quello Vado anche con magari la zappa Perché ora sta per buttare gli spiriti di ghiaccio Sto infame bagascio Eccolo qua Zappa, zappa No Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta a zapparli Una storia tristissima ragazzi Ma davvero triste come storia Domatore di cinghiali Dall'altra parte si va un attimino a counterare la situation Vai Vai domatore Vai domatore Zappa No, perché ragazzi Ma non funziona mai sto zappa Ma che è sta roba Vai 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 ragazzi La ripresa La rimonta La remontada Ok Si va con uno Anche il bocciatore Va bene ragazzi Va bene Va bene Bocciatore Tanta roba Tanta roba Vado anche con Vai golem di ghiaccio Che va un attimino a contare la situation Ok Va bene Va bene Va bene Vediamo come te la cavi con questi due bastardoni Ok Questo qua che blocca qua No Ma quanti danni fa? Ma quanti danni stanno a fare ragazzi? Zappa, 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 zappa Finché puoi Ok Che quella torre No, 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 ragazzi No, quella torre No, quella torre No, quella torre No, 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 no No, no No, no Mannaggia Quella cazzo di truppa aerea Raga Dobbiamo essere aggressivissimi Ma poi Ok, ok Si va di aggressività Gli butto il ghiaccio E martellate Così come se non ci fosse un domani Va bene Vediamo come te la cavi Zio Vediamo come te la cavi Ok Non se la sta cavando in realtà Va bene Vai, 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 vai Ci piace, ci piace un sacco. Ci butto anche il golem di ghiaccio, ecco lo sapevo, lo sapevo. Andate contro il golem di ghiaccio, uccidete i brutti bastardi che non siete altro. Sì, come ci piace ancora una volta. E ancora una volta ci piace, ok. Ma andate, randellate contro... Mamma mia! E cade la prima torre. Cade la prima fottutissima torre. Vai con il bocciatore che davvero adesso sta per, non so, sta per dire parole in turco molto probabilmente. Parole molto brutte in turco molto probabilmente. Va bene. Non si avvicinano. Vai via! Vai via! Ok, vado con il bocciatore. Vado anche con il spirito di ghiaccio. Va bene! Ok, bloccalo, bloccalo. Vai, 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 vai. Cioè, non è perfetta la situazione, però poteva andare leggermente meglio. Ok, zappa, zappa! Boom! Non ce l'aspettava, non ce l'aspettava. Attenzione! Leggissimo, leggissimo che non ce l'aspettava questa mossa. 29 secondi, ragazzi, 29 secondi. 29,8 secondi. Dobbiamo resistere. Ok, la fireball, la fireball. Ecco, lo sapevo. Vai con la fireball. Adesso si incazza come un mostro. Si incazza come... Come nient'altro nella vita si può incazzare in questo momento. Quanto li si era perso? Quanto li si era perso, ragazzi? E si parte anche al controattacco. Attenzione! Attenzione, ragazzi! Attenzione, il controattacco! Due secondi! Un secondo! E vince la partita con solo truppe di terra che si scagano proprio altamente le truppere. Come non c'è due senza tre e non c'è Natale senza il polpetto di zia Carmela. Allora, eccoci qua in un'altra partita. Fate i vostri pronostici, ragazzi. Secondo voi cosa accadrà? Ok, un bombarolo livello 10 dalle retrovie che davvero... Non so, un po'... Un po' di paura me la mette, devo essere sincero. Però potrebbe andare meglio, potrebbe andare peggio. Quindi noi facciamo una cosa di questo genere. Uno e uno due. Vai, vediamo come te la cavi. Zio... Zio... Zio Peppino. Vediamo come... Ah, io te la cavi bene, io te la cavi bene. Potevi cavartela ancora meglio e invece hai deciso di fare il bastardo. Va bene, uno muore e una randellata non gliela mena. Che palle. Ci butta un domitore di cinghiali, quello selvaggio, selvatico. Vediamo lui come se la cava. Ok, ok, ci sta. Un po' di randellate gliele meniamo. Ok, ci piace, ci piace così, ragazzi. Sta per buttare di nuovo quella fornace infima e bastarda e bagascia, oserei dire. Ma noi vediamo un attimino lui come se la cava. Oh, attenzione, attenzione ragazzi. Guardate i nostri barbari scelti come continuano qui a menare le proprio... Le bastardate, guardateli, guardateli. Assurdi, assurdi, ok. Uno cade, quello lì, lì cade. E poi si va verso l'infinito e oltre... Vai, zappa! Ok, continuiamo con le nostre randellate. Fantastico, fantastico ragazzi, fantastico. Ma noi siamo ancora più bastarde. Quindi ci buttiamo una sfera infuocata che forse li becca entrambi. Sì, questo è avere il culo. Lo ammetto, questo è avere il culo. Vai, 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 finché ce la fai. Ok, uno va qui che li distrae. E poi vanno anche i nostri fantastici bastardini armati. Guardate come sprecare un tronco.eu, ragazzi. Il nuovo sito internet. Cioè, ragazzi, vorrei farvi notare che non ha ancora toccato le nostre fottutissime torri. Va bene, ci sta uno che va da questa parte. Poi due che vanno da questa parte. E no, no, ragazzi, io mi difendo. Cioè, non è che ho bisogno per forza di farvi un attimo la guerra, eh. Cioè, io ti distruggo così. Cioè, bellissimo. Non mi ha portato le torri sotto il 2000 di vita. Cioè, tanto di cappello, soprattutto, tanto di banana, ragazzi. Da quanto non vedevate questa banana? Senza senso, ragazzi. Di davvero senza senso. E quindi ci becchiamo un'altra corona. Un altro bellissimo baule. Perché guardate quanto è sinuoso. È più sinuoso, non lo so, della testa di Nonno Ernesto. E quindi direi di concludere questo video con l'apertura di un ulteriore baule omaggio. Perfetto. Abbiamo fatto ben tre partite. Una dove ce l'hanno messa in quel posticino a causa di un drago infernale. E due in cui noi abbiamo regnato indiscussi all'interno del campo di battaglia. E con 10 goblin scemi e due ice golem. Io vi saluto. E soprattutto, ragazzi, vi chiedo di lasciare un bel like. Condividere questo video. Magari scrivere hashtag unicorno qui sotto nei commenti. Se vorreste tentare di essere salutati in un mio prossimo video. Di conseguenza, per questo video è effettivamente tutto. E noi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao! Ciao!